ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi diamo uno sguardo alla classifica delle top 20 moto più vendute in italia nei primi tre mesi dell'anno quindi da gennaio a marzo 2023 classifica interessante arrivata pochi giorni fa conoscete già la posizione di una moto in particolare visto che vi ho fatto un video apposta giusto pochi giorni fa ovvero conosciamo la posizione della hornet che si trova alla undicesima posizione ed è diventata attualmente la naked più venduta in italia per quanto riguarda questa classifica notiamo altre due cose interessanti no la prima è che la trk 502 per fortuna dico io non è più al comando come sempre ma si trova alla terza posizione comunque sia un buon risultato ma non è più prima come sempre e troviamo l'africa twin la primo posto africa twin che io ho provato giusto pochi giorni fa e altra cosa interessante royal anfield ragazzi royal anfield ha ben due moto nelle top 20 più vendute la hunter e la mettero 350 e altre due dentro le top 30 che è il limite massimo che possiamo vedere dalla classifica no io vi porto le top 20 ma in realtà la classifica è delle top 30 di più non si può vedere però nelle top 22 royal anfield delle top 30 alla 23esima e la 26esima c'è anche la nuova super meteo 650 la nuova cruiser 6 e mezzo della royal anfield e poi abbiamo anche il lima lion che secondo me è una moto molto interessante quindi royal anfield ragazzi sta effettivamente venendo su molto molto bene soprattutto le nuove le nuove hunter 350 e la nuova super meteo che sono proprio moto uscite recentissimamente da parte della casa ormai indiana per quanto riguarda il resto dunque vediamo un attimo la classifica partendo dagli estremi la moto più venduta che l'africa twin ha fatto registrare in tre mesi ben 1525 unità vendute l'ultima la ventesima 366 unità vendute partiamo dall'alto in genere ultimamente questa classifica ve la porto con erica con erica questo weekend insomma siamo andati da un'altra parte a fare un giro e quindi ve la porto io alla diciamo alla scrivania la classifica primo posto ragazzi la moto più venduta per l'appunto è la africa twin la maxi dello stradale della onda allora ultimamente ragazzi onda sta andando veramente molto forte è innegabile l'africa twin è la più venduta nonostante comunque un prezzo abbastanza alto la hornet novità recente è la naked più venduta e la trans alp è un modello potenzialmente molto interessante anche se non presente neanche nelle top 30 più vendute quindi trans alp in tanti sono curiosi di questa nuova enduro stradale media della onda ecco attualmente non è neanche dentro le top 30 ma potrebbe essere che la moto comunque uscita recentemente se il discorso vale anche per la hornet che usciva a febbraio e a febbraio era già presente nelle top più vendute del mese però va detto che comunque diciamo rispetto all'inizio dell'anno c'era soltanto gennaio di mezzo no quindi comunque la hornet riusciva a entrare in classifica invece adesso ci sono due mesi in cui la moto trans alp non è uscita e quindi ovviamente non ce l'ha fatta rientrare neanche dentro le top 30 potrebbe essere che magari potrà comparire dentro top 30 magari il prossimo mese detto ciò comunque trans alp appunto modello interessante potenzialmente ma non presente vi ricordo che io ho provato sia l'africa twin sia la hornet sia la trans alp diciamo per quanto riguarda la onda noterete che molto spesso vi parlo della onda o video la scrivania delle varie novità o perché vado alla onda e vi mostro insomma le moto nuove o con colori nuovi o novità proprio uscite recentemente della onda o vi porto news sulla onda perché ha vinto qualche premio per esempio recentemente la onda ha vinto premio il red dot il premio al design per la hornet e per la trans alp no quindi molto spesso vi parlo della onda in generale ad appunto che diversi hanno detto ah ma guarda sta diventando il canale della onda yuri parla sempre della onda ma ragazzi semplicemente perché la onda è la casa giapponese che al momento sta diciamo buttando fuori novità più interessanti e che stanno avendo più successo rispetto a suzuki o kawasaki oppure yamaha yamaha novità non ce ne sono di fatto la mt07 nuova è identica di fatto praticamente alla vecchia versione soltanto costa di più kawasaki dorme sugli allori ormai da un po di tempo vedremo se all'eco magari porterà qualcosa e suzuki si è arrivata sono arrivate le due nuove vstrom e la g6 8s però le moto sono appena uscite sul mercato dal punto che si potranno approvare tra poco io mi sono iscritto per esempio per provare la 8s e la naked il prossimo weekend quello che arriva adesso quindi tra poco vi porterò la prova di questa moto però ovviamente non sono ancora presenti in classifica e non ci sono news che riguardano premi o cose del genere che riguardano le novità suzuki quindi ecco onda tra giapponesi è la casa che sta spingendo di più questo periodo ma in generale comunque nel mondo moto è la casa che sta avendo più successo con le novità che muove un po' il mercato quindi è per questo che vi parlo delle novità della onda per quanto riguarda test ride ragazzi siccome sono riuscito dopo che ho comprato la hornet ad accacciarmi alla onda di pavia semplicemente vado là e provo le moto nuove della onda tutto qua ragazzi anche perché altre moto le ho provate nelle altre case africa twin ragazzi maxi enduro stradale della onda il motore è il 1100 bicilindrico potenza 102 cavalli coppia 105 Nm prezzo della versione base 15.200 euro la versione con dct 16.200 euro l'adventure sport 19.100 euro la versione dct 20.100 euro io ho provato vi ricordo che la prova che vedete qui di fianco gira su monitor la versione adventure sport con dct quella da 20.000 euro passano dct ragazzi in tanti mi chiedevano com'è questo dct provalo che è fantastico allora banalmente io l'ho ridotto così anche nel video cioè fondamentalmente all'atto pratico per noi che guidiamo è come se guidaste uno scooter perché semplicemente avete la manopola aprite il gas no però ovviamente il sistema la moto gestisce le marce le marce ci sono sulla africa twin dct però vengono gestite automaticamente dalla moto no voi aprite il gas oppure riducete il gas chiudete il gas accelerate o diminuite la velocità e la moto automaticamente imposta diciamo le marce però le marce ci sono no ovviamente a meno che non utilizzate le palette che sono sul sulla manopola sinistra un po come nel mondo auto funziona un po da cambio elettronico no c'è c'è il dct automatico però se volete diciamo passare sopra il dct vi interessa cambiare voi marcia invece che fare in maniera automatica magari una volta siete nelle curve volete anticipare il dct potete farlo scalando una marcia per esempio usando le palette insomma il dct ragazzi è interessante però fino a un certo punto infatti nella prova dell'africa twin vi ho detto si è molto carino molto bello ma io non lo vorrei sulla hornet cioè io non me ne farei praticamente nulla qualcuno mi hanno risposto dicendo si ma il dct va utilizzato in maniera diciamo manuale si ok ma a sto punto che senso ha il dct no cioè quindi il dct funziona bene è una comodità per chi vuole viaggiare non lo vedo come una cosa imprescindibile però è con questo mi intendo dire però funziona bene il sistema per carità però non è che mi abbia entusiasmato così tanto no cioè per viaggiare dct sembrava quasi fosse la rivoluzione di chissà cosa è comodo però ragazzi si viaggia bene tranquillamente anche con il cambio elettronico oppure con la leva della frizione e il cambio come su tutte le moto però comunque funziona bene la moto a un certo costo l'africa twin però dicevo è la più venduta per viaggiare comodissima motore gira molto bene affidabilità onda buona elettronica doppio schermo tft sopra taccia e sotto lcd c'è il riding mode erogazione potenza freno motore insomma sono i vari livelli di intervento per quanto riguarda l'elettronica è una moto ben fatta ragazzi vende di più rispetto alla transalp attualmente e secondo me continuerà a farlo perché nel segmento comunque delle due stradali la gente secondo me preferisce spendere un po di più tipo 4000 in più per moto di un'altra categoria piuttosto che spendere un pochettino di meno per una transalp avendo provato io la transalp e l'africa twin vi dico tra le due 4000 in più sicuramente l'africa twin li vale c'è molta differenza rispetto alla transalp sull'africa twin e soprattutto lato anche plastiche costruzione c'è l'africa twin è una moto di un alto livello no la transalp dalle plastiche capisci che è un po cibo non molto un po fatta risparmio questo modetto comunque passiamo oltre seconda posizione ragazzi la bmw con la sua r 250 gs la versione base vi ricordo come prezzo siamo sulle 20.200 euro circa monta il motore solito il bicilindrico 1254 di cilindrata con una potenza di 136 cavalli e coppie di ben 143 newton metri vi consiglio se volete questa moto questa crossover la versione di livrea quella gs trofica però costa circa un 2000 euro in più vi ricordo che a breve dovrebbe arrivare la versione nuova del gs che dovrebbe essere un 1300 oppure un 1400 terza posizione abbiamo la trk 502 che non sto qua a descrivervela perché la conoscono anche i sassi ve l'ho descritta moltissime volte in passato e al terzo posto sono contento sì la moto costa 6.000 euro però vi dico io spenderei un po di più per moto di altre categorie veramente cioè la trk ok ma era veramente l'unico paese dell'italia in cui questa moto vendeva così tanto cioè un buon rapporto quale da prezzo sì fino a un certo punto cioè la moto è molto cheap al di là comunque della strumentazione vecchia proprio peso è alto la moto ingombrante costa sempre 6.000 la versione normale e la versione la x è quella più da fuori strada se vogliamo però sono contenti insomma che venda più un'altra moto qualsiasi esso sia potrebbe essere che per esempio vendere più non lo so il gs anche ma la ragazzi ma veramente cioè avendo la provata anche vi dico non si capiva bene questo successo enorme altra cosa benelli non si capisce bene che fine abbia fatto la nuova trk 800 e 702 onestamente ragazzi di benelli cioè non riesco a capire bene come si stanno comportando cioè presentano i modelli all'ecomap non si capisce cosa arriva sul mercato quando arriva si salvano soltanto benelli per quanto riguarda la trk che la gente continua a vendere a comprare però onestamente altre moto imperale 400 la 752s insomma tutte moto che non sono più presenti in classifica sotto abbiamo la tracer 9 crossover della yamaha moto sempre interessante anche se comunque prezzo aumentato 3 cilindri il motore cb3 yamaha potenza 120 cavalli scarsi coppia 93 newton metri una moto con pettacolo minera 6 assi abbiamo traction control ready mode select control brake control schermo tft 3.5 pollici doppio molto carino anche se comunque secondo me poco leggibile versione base 12.200 euro partire da prezzo la gt che ho provato io due anni fa 14.700 euro circa e la gt plus con la strumentazione nuova grossa tft unica e la tv cruise control radar anticollisione anteriore 16.500 euro prezzi importanti ma la moto comunque secondo me li vale il mio consiglio è per la gt perché la gt plus si può essere utile il radar però c'è secondo me la base se avete un minimo di attenzione la base o la gt se avete minimo di attenzione basta in avanzano anche per viaggiare se volete essere sicuri la gt plus sarà da l'anticollisione però soltanto l'avanti dietro il blind spot detection non è presente non è quindi un sistema uguale a quello per esempio della motistrada v4 sotto abbiamo la tenere 700 della yamaha tenere ragazzi sono arrivati altri modelli in gamma lo sapete ve ne ho parlato giusto poche settimane fa abbiamo adesso 5 modelli 5 versioni di questa tenere tutte accomunate comunque dallo stesso motore la versione base a partire da 11.000 euro disponibile in due diverse colorazioni che è quella che vi consiglio poi c'è la versione explore edition quella più adatta diciamo per viaggiare perde un po dell'anima da fuoristrada e guadagna un po dell'anima da turistica poi sopra c'è la extreme edition all'opposto parafango anteriore alto più adatta per il fuoristrada meno per viaggiare poi la rally edition la rally edition molto carina con livrea heritage white e scarco grapovic 12.500 circa e sopra la top è la world ride tante versioni però il mio consiglio per questa moto va alla base oppure oppure non lo so la world ride vi dico costa un po' troppo per quanto offre come motore rispetto alla tuareg dell'aprilia oppure alla 790 adventure oppure 890 adventure però comunque sia una moto che tenere vende sempre tanto bene però io spererei sempre nell'arrivo di una moto magari un po' di vista come motore un cp2 nuovo yamaha magari 750 per avere un po' più di potenza e un po' più di coppia che per la tenere può anche essere un discorso un po' inutile perché comunque la moto nasce per il fuoristrada no? montando i cerchi 21-18 ma su altre moto il cp2 aggiornato potrebbe essere più interessante per esempio l'MT07 o la 367 sottottenere abbiamo la multistrada V4 la V4 ragazzi prezzo sempre molto alto la versione base la V4 disponibile il livrea rossa Ducati Red e sospensioni normali non elettroniche 20.000 euro la V4S partire da 24.000 euro con sospensioni elettroniche semiattive e diversi allestimenti e per esempio cerchi lega cerchi raggi con il disponibile anche se volete pacchetto radar anticollisione anteriore e posteriore poi c'è la rally 27.000 euro a partire da e poi c'è la top la Pikes Peak a partire da 31.000 euro circa la moto monta il motore V4 4 cilindri cilindrata 1.158 con una potenza di ben 170 cavalli 170 e una coppia di ben 125 Nm quindi praticamente è la crossover più potente con la coppia anche di una Panigale V4 quindi è una moto veramente pazzesca però ai costi i prezzi sono veramente molto importanti comunque la moto vende tantissimo poi sotto abbiamo la V7 della moto Guzzi che io chiamo Naked in realtà ragazzi molto spesso viene inquadrato come Naked questa moto ma non è la Naked la V7 più una custom classic cioè non è una Naked anche se comunque impropriamente viene chiamata Naked e più secondo me riceve una classic cioè non può essere paragonata secondo me a una Naked tipo MT-09, MT-07 comunque la V7 prezzo è rimasto uguale sono arrivate nuove colorazioni per questa moto insomma bicilindrica 850 della moto Guzzi versione base 9.000 euro disponibile in quattro diverse colorazioni che è la Stone nuova livrea con la rossa e poi c'è la Special e la Special Edition da 10.000 euro è una moto molto carina i prezzi sono rimasti invariati e vende comunque tanto potenza un po' limitata il motore è della TT però la potenza è 10 cavalli meno circa 65 cavalli sotto poi la sotto la V7 abbiamo la Honda con la sua NC750X il ritorno di questa moto che l'anno scorso è sparita comunque non si vedeva insomma in classifica la 7.5X ragazzi in tanti pensano che il motore sia quello della Hornet perché leggono 7.5X pensano che il motore sia lo stesso in realtà la Hornet ha un motore diverso un 7.5X nuovo bicilindrico con più potenza 92 cavalli la 750X monta il motore vecchio 7.5X con potenza circa 58 cavalli e una coppia di circa 70 Nm è una moto questa con i 17 come cerchi quindi non ben fuori strada per viaggiare e costa a partire da 8.690 euro disponibile in mi sembra 3 o 4 livree carina con la blu e con la rossa classica e se volete c'è il DCT visto che in tanti esaltano questo DCT se volete 1000 euro in più avete anche il DCT sulla 750X è una moto interessante per viaggiare non molto potente ma comunque sia per esempio ha il sistema del vano porta oggetti con capienza di circa 23 litri che porta un casco anche se vi interessa nella parte anteriore dove in genere c'è il serbatoio lì si alza e c'è il vano per mettere un porta quello che volete oppure un casco e può essere utile se magari viaggiate in coppia con la zavorrina quindi è una moto molto pratica molto comoda carina come estetica a un certo prezzo sarebbe interessante magari se arrivasse una versione con quantomeno 10 cavalli in più per viaggiare secondo me ci potrebbe stare bene il DCT consigliato oppure no ragazzi io il DCT cioè io non lo vedo come una cosa interessante il DCT per quanto costa no in sé funziona bene però vi dico ma a me basterebbe il cambio elettronico c'è il suo moto di questo tipo ma anche l'Africa Twin cambio elettronico me lo fai pagare 300 euro in più sono contento il DCT volendo fa anche da cambio elettronico con le palette tra virgolette sul manubrio di sinistra però onestamente il DCT usato in modo automatico con l'automatismo è un qualcosa che cioè è comodo ma è per chi si non vuole usare le marce quindi capite quando utilizzate la moto è un po' come se utilizzaste uno scooter cioè non è che ci passa molto concettualmente parlando no perché le marce ci sono però all'atto pratico aprite e chiudete il gas come se fosse uno scooter quindi se vi chiedete la 750X con DCT o senza vi dico onestamente secondo me va benissimo anche senza cioè io non credo che spenderei mille in più per il DCT vi dico la verità poi c'è chi l'ha comprata con DCT e chi dice che è una cosa imprescindibile la rivoluzione delle moto sarà che non l'ho portata in pista la moto l'Africa Twin però non è che sono rimasto così impressionato dal DCT e comunque sia la moto utilizzata sia in urbano sia in tagenziale a 140-150 all'ora e quindi non è che non l'ho utilizzata la moto tant'è siamo rimasti dove? la 750X poi sotto abbiamo la versione Adventure della GS prezzo a partire da 22.400 euro circa che se non sbaglio i prezzi della BMW sono aumentati recentemente sotto ancora abbiamo l'XC650 della moto Morini recentemente la moto Morini vi ricordo che ho provato la 6.5 la versione stradale la STR carina come moto l'XC650 i prezzi sono rimasti gli stessi la versione base 7.200 euro circa poi c'è la Gold Wheel Edition a top 7.700 euro circa e la versione con cerchi a raggi se non sbaglio 7.500 euro disponibile la moto in tre diverse livree la Gold Wheel Edition soltanto con livree a quella rossa con cerchi dorati a raggi carina parliamo di un impianto frenante Brembo sospensioni Marzocchi schermo TFT costa il giusto e va veramente molto bene super consigliata cioè è molto meglio l'XC650 volendo si può avere anche in versione A2 depotenziata che non la TRK ragazzi questa cosa ve la metto come iscritto ve la metto per iscritto anche se volete sotto abbiamo undicesima posizione la Hornet 750 la moto che io ho comprato sono arrivato a 500 km sull'Hornet ragazzi vi ho già parlato di questa moto del successo incredibile attualmente è la naked più venduta in Italia lo è stato anche nel mese soltanto di marzo top 10 più venduta a marzo è la naked più venduta anche rispetto alla V7 che però vi ripeto secondo me è più una custom classic il motore è il nuovo unica 55 cilindrata con una potenza di 92 cavalli la moto monta ovviamente lo schermo TFT che dovrebbe essere quello del 5000R c'è il cambio elettronico se volete come optional 284 euro 290 euro circa al prezzo ve lo straconsiglio funziona molto bene e poi variar di mod controllo erogazione potenza controllo freno motore traction control con l'antimpennato insomma è una moto bella completa io ve la straconsiglio a breve arriverà un upgrade per la Hornet ve l'ho già letta questa cosa e ve lo porterò poi il video sul canale la Hornet da parte mia è super consigliata vi ricordo è una moto che sta in quel limbo nuovo tra il segmento entry level tipo MT07 o Trident 60 della Triumph e per esempio una Z900 oppure una MT09 è super consigliata ragazzi adesso è uscita la GSX8S la proverò questo weekend e vi dirò insomma in maniera assolutamente distaccata quale tra i due io preferisco cioè non è che io perché ho comprato la Hornet parlerò male della GSX8S questo che tendo a dire sotto ancora sotto la Hornet abbiamo l'ante 350 della Royal Anfield la sua nuova naked chiamiamola prezzo interessante 4300 euro o 4004 dipende quale delle 6 libri volete acquistarvi il motore è piattaforma 359 monocilindrica utilizzata anche sulla Meteor e sulla Classic 350 potenza 20.2 cavalli coppia 27 Nm costa poco il tripper il navigatore se vi interessa è come optional si paga a parte costa poco e sta vendendo bene la sorpresa maggiore ragazzi quello che mi ha veramente sorpreso non è che la Hornet ha superato le vendite di una Z900 o MT09 ma che ha superato addirittura l'ante 350 perché era una moto che per esempio il mese scorso vendeva un macello comunque è una moto carina veramente fatta molto bene e ve l'ho mostrata anche dal vivo se riesco poi lo andrò a provare sotto ancora Z900 della Kawasaki Z900 supera le MT09 vende meno rispetto alla Hornet la moto è sempre la stessa secondo me ci potrebbe essere nell'aria l'arrivo di qualche versione un po' rivista soprattutto magari una moto un po' rivista nel design con il cambio elettronico perché secondo me è inaccettabile che ancora questa moto sia l'unica naked senza cambio elettronico nel 2023 vi ripeto sempre provatelo cambio elettronico perché non è soltanto una questione di pista andare più veloce in pista con il cambio elettronico ma è comodo proprio nell'uso di tutti i giorni ed è un peccato che la 900 comunque non abbia questo dispositivo per il resto la moto è sempre la stessa 4 cilindri 125 cavalli 99 di 2 metri di coppia lo schermo è tft da 4.3 pollici c'è sempre power mode ready mode traction control che non si può anche togliere prezzo 10.400 euro effettivamente vi dico è la naked media che io andrei a consigliarvi forse di più anche rispetto alla triumph con la CRRR nuova 2023 e rispetto anche per esempio per l'MT09 cioè a questo prezzo qua 10.400 circa la 900 è una moto super consigliata però attenzione perché è uscita qualche tempo fa se non sbaglio 2020 o giù di lì e non vorrei che nell'area comunque ci sia un modello nuovo anche se comunque al momento non ci sono informazioni in tal senso sotto ancora RKF125 della Kiwi Motor è un piccolo 125 dal costo di circa 2.800 euro carina come fatta costa poco abbastanza affidabile sotto l'RKF abbiamo la Tracer 7 Tracer 7 ragazzi è la crossover insomma della Yamaha con il motore CP2 quello della Tenere oppure della MT07 è una moto che costa nella versione normale 9.200 euro a partire da se volete la variante GT costa un po' di più a partire da 10.200 euro carina la potenza sempre la stessa della Tenere 75 cavalli circa per viaggiare sicuramente deve essere una moto comoda però vi dico spendere per spendere tra la GT 10.200 e una Tracer 9 12.200 la base vi dico spendete un po' di più e prendetevi la Tracer 9 secondo me è una moto un po' più interessante poi sotto la Tracer 7 abbiamo una moto comunque interessante è un po' di tempo che insomma non vediamo in classifica alta questa moto la MT09 della Yamaha una volta vendeva di più infatti rispetto alla Z900 adesso vende un pochettino di meno comunque sia la MT09 ragazzi il prezzo purtroppo è aumentato recentemente lo sapete l'ho provata l'anno scorso la moto a partire da 10.600 euro circa la versione base e l'SP un po' di più 12.700 euro circa e sono prezzi comunque molto importanti e secondo me anche un pochettino troppo alti non so fino a che punto vale la pena spendere queste cifre per questa moto nella versione SP la versione base invece è una moto consigliata come posizione di guida è un po' più eretta rispetto alla Z900 è una moto con una buona elettronica il pacchetto è lo stesso della Treser 9 e la strumentazione è la stessa però lo schermo è un TFT singolo da 3.5 pollici non molto ampio e senza il modulo bluetooth sotto abbiamo la Fante con la sua 125 Enduro Motard una piccola insomma 125 e poi incontriamo la Yamaha con la sua MT07 MT07 ragazzi è una moto che restamente non capisco cosa ci faccia in classifica ve la dico in tutta onestà ve la butto lì c'è ok tutto no però con in giro la Hornet con in giro la nuova GSX-8S secondo me moto come la MT07 o come la Trident o come la Kawasaki Z650 sono diventate abbastanza inutili perché tecnicamente parlando a livello comunque di tecnica di motore ciclistica sono anni indietro rispetto a moto come la Hornet oppure come la GSX-8S oppure come la 790 G5 della KTM che tra l'altro non è presente in classifica neanche dentro le top 30 qualcuno me l'aveva chiesto ecco comunque si è la moto presente secondo me costa troppo perché la variante nuova 2023 costa a partire da 8000 euro tanto quanto la Hornet e veramente ragazzi credetemi non ha senso fare un paragone come novità Yamaha ci ha messo dentro lo schermo TFT e basta cioè vi dico la verità con predisposizione anche se volete per il cambio elettronico però il cambio elettronico e quei shifter si andrebbe a pagare a parte ecco vi dico 8000 la Hornet 8000 e la 207 è un confronto veramente senza minimo senso qualcuno ha scritto nei commenti recentemente in un video che ho fatto qualche tempo fa a Ortigia in Sicilia ma ha scritto la Hornet è messa meglio rispetto alla 207 ma la Hornet ha la rota posteriore più piccola e poi come plastiche sembra un pochettino cheap allora l'MT07 come plastiche è cheap tanto quanto la Hornet ve lo dico perché la moto la 07 comunque l'ho provata il posteriore 180 sull'MT07 è lì soltanto per estetica ve l'ho sempre detto questo discorso su queste moto di queste potenze queste categorie il 180 sta lì soltanto perché fa scena appunto e basta sull'Hornet il 160 basta e avanza per divertirsi anzi la moto è super agilissima quindi vi dico cioè in tutta onestà vi dico un MT-07 perde troppa potenza e coppia rispetto alle nuove tra virgolette i naked entry level ovvero CSX8S 790 Duke e Hornet quindi cioè è in classifica ma particolare come estetica ok però tecnicamente parlando è veramente una moto indietro secondo me molto rispetto alle novità uscite recentemente ci starebbe che magari Yamaha lavorasse qualche MT-07 nuova con un motore nuovo CP2 sarebbe sicuramente più interessante la moto e togliere la forciera telescopica perché sull'MT07 non si può veramente vedere sotto abbiamo la Royal Enfield con la sua MT-350 piattaforma della ANT-350 motore non cambia mono 350 cilindrata potenza 20 cavalli però questa qua più una cruiser per viaggiare il tripper sempre si paga a parte adesso prezzo 4.500 la versione tra virgolette base senza riparabrezza alto per viaggiare senza lo schienalino per il passeggero 4.600 intermezzo la versione intermedia e 4.700 la top con schienalino per il passeggero e per la prezza tra virgolette touring prezzo molto basso la moto vende tanto chiude con 366 unità vendute abbiamo la Moto Guzzi con la sua V85 TT moto molto bella i prezzi sono più o meno rimasti sempre gli stessi la versione base a partire da 12.200 euro disponibile in due diverse livree molto bella quella per deltai poi c'è l'Evocative Graphics con una nuova livrea 12.500 prezzo base circa e poi c'è la Guardia dell'onore o la Travere 14.000 euro il motore è della V7 ma con 11 cavalli in più circa di potenza siamo a 75 cavalli circa di potenza con un peso di circa 209 kg è una moto molto bella fatta per viaggiare non ha la potenza la coppia elettronica di una 3.900 e infatti vende di meno rispetto a una 3.900 comunque questa è una moto molto bella questa ragazzi è la classifica delle top 20 moto più vendute in Italia da gennaio a marzo 2023 ripeto sono molto contento per la Honda perché comunque la Honda ha mantenuto i prezzi invariati praticamente rispetto all'anno scorso e propone novità interessanti ad un prezzo contenuto e competitivo la Transalp e la Hornet e sono contento per la mia moto la Hornet che è la naked più venduta e sono contento per Royal Enfield perché sta avendo veramente un ottimo ottimo successo Royal Enfield ragazzi prezzi bassi moto che vanno bene in India Royal Enfield vende un macello e sono contento insomma che in Italia questa marca questo marchio stia venendo così tanto apprezzato anche se io spero nell'arrivo di un Himalayan 650 con il motore della QT o dell'Interceptor discorso KTM la 790 Duke è uscita recentemente prodotta in Cina dalla CFMoto e non è quindi presente in classifica né nella classifica delle top 30 più vendute in Italia da gennaio a marzo né nelle top 10 più vendute a marzo in Italia però vedremo se si riprenderà un po' questa moto nuova idem il discorso anche per la versione Adventure però ragazzi KTM in tanti osanno hanno questo marchio ma in Italia KTM non vende tanto un po' come la Triumph ragazzi cioè sono molto interessanti ma in Italia KTM non ha molto mercato al contrario in Germania KTM vende un macello da questo video è tutto nei commenti fatemi sapere insomma se avete una di queste moto presente in classifica se avete provato qualcosa se volete comprarvi una di queste moto domande curiosità insomma fatemi sapere un po' tutto quello che volete saluto come sempre Erika la mia ragazza e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao